Ciao a tutti, sto mettendo l'agnellino, adesso sto mettendo la sella, che era bella pesante, io uso la sella australiana, adesso sto allacciando il pettorale, poi faccio passare sotto il pettorale al sto pancia, adesso ho stretto il sto pancia, ho messo la testiera, eccola pronta per fare le lezioni, domani ci saranno tanti, ho messo la testiera, ci saranno tanti video domani, ciao ciao!